I grandi dello spettacolo e dello sport in un racconto originale nato dalla penna di uno scrittore che sa raccontare storie che sembrano favole. Esce in libreria e negli store online il nuovo romanzo di Marino Bartoletti, La discesa degli dei, che arriva dopo il grande successo dell'originale fantasioso La cena degli dei e dopo il commovente Il ritorno degli dei. Terza opera dell'inedita trilogia narrativa dedicata ad alcuni dei più grandi personaggi dello sport e dello spettacolo. Abbiamo incontrato l'autore allo Stadio dei Marmi intitolato proprio Pietro Mennea, uno degli dei nominati nel volume. È la terza creatura di una serie, posso dire, veramente molto amata. Avevo iniziato due anni fa con La cena degli dei, quindi questo romanzo favola che prevedeva il grande vecchio che poi Enzo Ferrari che nel luogo con la L maiuscola che assomiglia molto al paradiso, riceveva in questa cena dieci grandi personaggi che aveva incontrato in terra, alcuni dei quali non aveva mai conosciuto per la verità e che quindi vuole riavere vicino a sé pensando come penso io che quando i nostri eroi, i nostri campioni, i nostri miti, i nostri dei dello spettacolo, della musica, dello sport se ne vanno, non è possibile che non vadano ancora da qualche parte. Il secondo è stato un anno fa il pluripremiato ritorno degli dei dove irrompono anche i calciatori che nel primo libro non c'erano anche perché nel primo libro ancora erano fra noi Paolo Rossi e Diego Maradona che diventano i protagonisti di questo secondo libro. La discesa degli dei è il completamento naturale di questo ciclo, di questo percorso perché qui gli dei, anche in questo caso dello sport, della musica e dello spettacolo scendono sulla terra guidati non solo dal grande vecchio ma anche da Raffaella Carrà che nel frattempo purtroppo li ha raggiunti per risolvere dei casi, per coronare dei sogni. La discesa degli dei ha per protagonisti Gigi Proietti, Pino Daniele, Massimo Troisi, Gilles Vinlev, Fausto Coppi, Pietro Mennea e Domenico Modugno con una guida davvero speciale. Raffaella Carrà è la dea a cui ho dedicato il libro perché come ho scritto nella dedica ha fatto una rivoluzione silenziosa quasi senza che ce ne accorgessimo, una donna libera, una grande professionista, una persona entusiasta, una persona che ci ha dato tanto e mi piace pensare che nel luogo porti tutti questi suoi sentimenti assieme al know-how che è quello di far incontrare persone, per cui è lei che sceglie gli dei che scendono sulla terra per realizzare i sogni di questi ragazzi che chiedono il loro aiuto. E chissà se dopo il terzo volume arriverà un quarto. Sono ancora tanti, purtroppo, per fortuna, le persone a cui potrei attingere. Io passo i mesi fra la pubblicazione di un libro e l'altro a leggere suggerimenti di persone che mi mandano elenco di dei che vorrebbero nei prossimi libri, però è il grande vecchio che sceglie, non solo io.